ancora buongiorno bentrovati da firenze smart mauro ciutini in studio partiamo con la 1 tra calenzano e il video 1 variante di valico il traffico è rallentato c'è traffico intenso in direzione di bologna sempre sulla 1 tra incisa reggello e valdarno personale su strada in direzione di roma ci spostiamo in a 11 prato ovest pistoia c'è un veicolo fermo in direzione di pisa torniamo in a 1 ricordo con orario 22 6 durante la notte di mercoledì 20 settembre sarà chiusa la stazione di firenze in pruneta in uscita per chi proviene da roma e per domani lunedì 18 settembre è previsto uno sciopero di 24 ore in tutta la toscana per l'intera giornata escluse due fasce di garanzia il servizio potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse maggiori informazioni sulle fasce garantite di treni bus e tram ritrovate sui nostri canali social è tutto grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti